Venezia è condannata! Dobbiamo agire ora! Un mix di acqua e polvere di cacao spruzzato con l'estintore sulla facciata laterale destra della Basilica di San Marco, del fango invece sulle colonne. È la protesta degli attivisti di ultima generazione andata in scena questa mattina poco dopo le 11. Venezia a breve sarà sott'acqua! Non ci sarà più niente di tutto questo! Saremo ricoperti dal fango, moriremo! Gli attivisti sostengono di amare Venezia e di volere evitare che venga distrutta. Nessuno può negare che Venezia sarà sommersa. Le persone qui dietro di me, come me, tengono a questa chiesa. Tanto che il fango è già stato rimosso. Vi posso assicurare che con la facilità con cui è stato rimosso il fango non verremo a rimuovere il mare da Venezia. Non basteranno tre secchi per rimuovere l'acqua del mare. Questa chiesa sarà sott'acqua e a quel punto sarà troppo tardi per fare qualunque cosa. Successivamente hanno srotolato uno striscione con scritto Fondo Riparazione e un cartello con le foto dei 12 membri di ultima generazione rimasti in carcere tre giorni dopo un blocco stradale a Fiumicino, prima di ricevere oggi la misura cautelare di obbligo di dimora. Poi sono arrivate le forze dell'ordine che li hanno portati via verso le 12 e 15. Inevitabile per gli attivisti la denuncia per imbrattamento, ma l'autorità giudiziaria valuterà anche eventuali disposizioni del questore. Le operazioni di pulizia della facciata della Basilica delle Colonne sono iniziate immediatamente.